A Latina è provincia via libera l'apertura dei ristoranti che a pranzo offrono il servizio mensa per i lavoratori delle aziende con le quali viene instaurato un rapporto contrattuale continuativo di somministrazione di alimenti e bevande. C'è un negozio di abbigliamento e vengo a mangiare qui. In una situazione di grandissima difficoltà in cui si trovano le aziende del settore, credo che questa sia assolutamente un'opportunità che dovrà essere colta. L'ok a questa possibilità è arrivato da quel parere positivo del Viminale ed è stato comunicato in un vertice in prefettura cui hanno preso parte le istituzioni e le associazioni di categoria, previsti alcuni requisiti per attivare il servizio. Devono soltanto presentare dei contratti con i quali stipulati tra il ristoratore e l'azienda che possono essere agevolmente controllati dalle forze dell'ordine. Dunque il potere aprire a pranzo diventa ora un'opportunità per i ristoratori della zona arancione, non solo di Latina che come è noto possono effettuare solo l'asporto e le consegne a domicilio e che durante la pandemia stanno registrando pesanti cali di fatturato. Ho dovuto chiamare anche il proprietario del locale per farmi venire incontri per i fitti, perché effettivamente non abbiamo i soldi più per pagare né le tasse, né i fitti e né altro.